Un altro ottimo esercizio per allenare i muscoli del dorso sono i rematori. I rematori sono un esercizio anch'essi fondamentale e che non potete trascurare nel vostro allenamento. I rematori possono essere eseguiti sia con bilanciere sia con manubri. Il primo rematore che vediamo è il classico, quello che viene eseguito su una panchetta. Il rematore viene eseguito in questo modo. Appoggiate un ginocchio sulla panchetta, una mano, afferrate il manubrio e da questa posizione tirate verso il petto. Questo è il rematore con un manubrio. Potete eseguire il rematore con un manubrio principalmente in tre modi. Appresa neutra, come vi ho fatto vedere adesso. Appresa intraruotata e con un'extrarotazione in risalita, in questo modo. Presa pronata. E potete anche eseguire il rematore con una presa supinata in partenza e con un'intrarotazione in risalita, in questo modo. Parto da una posizione supinata e quando salgo ruoto. Ruoto all'interno. sono tre versioni con cui eseguire il rematore con un manubrio. Potete eseguire anche il rematore con due manubri. Con due manubri verrà eseguito in questo modo. Afferro i manubri, metto in posizione e tiro all'indietro. Questo è il rematore con due manubri.